In queste ultime ore mi sono arrivate, come spesso avviene, una serie di messaggi Whatsapp in cui si parla di Silvia Aisha Romano. Sono disgustosi. Allora vedo una donna nuda che gira per la città dicendo che fa un esperimento sociale e si dice che è lei, come per dire guardate questa donnaccia come era prima, non è vero. Si vede lei abbracciata con dei ragazzi di colore, si vede lei come era prima e come è diventata dopo. Cioè quello che sta avvenendo in queste ore sui social media nei confronti di Silvia Aisha Romano mi fa orrore, mi fa schifo. E voi che ho visto addirittura un Whatsapp che mi è arrivato con un finto ridicolo uomo dei servizi segreti che dice che i soldi che sono stati trovati per liberare Silvia Romano sono stati tolti dalla cassa integrazione. Si tratta di tutti fake e trovo disgustoso non solo quelli che li fa ma quelli che li mandano, non me li mandate. Ma il punto fondamentale non è questo. Il punto fondamentale è che questi leoni, questi fenomeni che se la prendono con questa ragazza, vorrei vedere questi fenomeni da tastiera che spesso si nascondono senza nomi e cognomi tranne alcuni, vorrei vederli 16 mesi incaprettati in giro per luoghi completamente inospitali e passare per sei diversi covid terroristi, subire quello che ha subito questa ragazza, andare e poi tornare in Italia come quattrocchi. Li vorrei vedere perché non ce ne sono tanti di quattrocchi. Ne vorrei vedere tutti questi fenomeni da tastiera che oggi ti mandano un click con lei nuda dicendo guardate questa povera ragazza che cos'era. Detto questo, dico a questi fenomeni, invece di prendersela con una ragazza che non c'entra nulla, invece di non prendersela con il riscatto che è stato pagato nei confronti di tutti, che a me fa orrore pagare il riscatto agli giadisti, è chiaro? Lo è quanto fa orrore a voi? Mi sembra che siete talmente scemi nel prendervelo con questa ragazza che non capite che lei è la prima ed ultima vittima di tutta questa vicenda, vittima perché è stata mandata da una ONG che si fa i cazzetti suoi e manda una ragazzina di vent'anni in quella zona, vittima perché è stata 18 mesi, 16 mesi in balia dei rapinatori, vittima perché è stata esibita come un trofeo dai nostri politici Conte e Di Maio che l'hanno trattata come un loro trofeo politico, quindi tre volte vittima, cioè se la vostra indignazione la volete usare, se volete prendervela, non ve la prendete con Silvia Romano che non c'entra nulla e anzi le auguro di riprendersi da questa dramma il prima possibile, vuole ritornare in Africa? Adesso è diventata una grande, come possiamo dire, nuova fake, vuole ritornare in Africa? Vediamo quando ritornerà in Africa, vediamo se ritornerà in Africa, il problema non è lei, il problema è quelli che intorno a lei ci hanno costruito una narrazione orrenda, le ONG, i rapitori e un governo che ha fatto una pagliacciata con le mascherine e con quell'orribile veste islamica che forse era quello il problema che non si sarebbe mai dovuto esibire, non la donna che la contiene. Ciao!